Dopo la grande emergenza neve, la situazione in buona parte della Romagna sta gradatamente tornando alla normalità. Questo in pianura, perché invece sui rilievi appenninici, dove è nevicato anche nelle scorse ore, si è ancora impegnate nel liberare le strade dalla tanta neve e nel ripristinare i collegamenti con i centri abitati più piccoli. Tanto, tantissimo il lavoro da fare, a partire dal ripristinare le linee elettriche abbattute, dallo sgomberare le strade dagli innumerevoli alberi e grossi rami caduti a terra sotto il peso della tanta neve. Su questo versante c'è anche il problema delle vetture danneggiate, in certi casi irrimediabilmente dalla caduta delle piante. Per i rimborsi assicurativi occorre prima di tutto risalire alla proprietà della pianta, che può essere privato o pubblica, e procurarsi la documentazione, tramite foto e testimonianze, di quanto accaduto. In corso anche i primi interventi urgenti di sistemazione delle strade, letteralmente devastati da migliaia di buche, provocate soprattutto dalle catene dei mezzi pesanti, dall'attività degli spazianevi e dalle infiltrazioni di acqua nel manto asfaltato. Buone notizie, invece, sul versante piena dei fiumi. Le temperature abbastanza basse stanno provocando uno scioglimento graduale della neve e i corsi d'acqua, sebbene in forte e piena, stanno smaltendo l'afflusso imprevisto senza eccessivi problemi. Anche il mare, abbastanza calmo dopo l'amareggiata dei giorni scorsi, riceve bene la tanta acqua portata dai fiumi romagnoli. A piangere, invece, sono le casse comunali e provinciali. Il costo di questa eccezionale nevicata di marzo si annuncia pesantissimo e, in certi casi, gli amministratori locali sono alle prese con veri salti mortali contabili per far fronte alle necessità di spesa.